A Catania c'è chi, oltre a ripassare le norme del codice della strada, dovrebbe rivedere bene anche un po' di educazione civica. Si rene spiegate domenica scorsa per un'ambulanza che però non è riuscita a avvarcare la soglia dell'ospedale Santa Marta. Il motivo? Lo vedete bello e chiaro in questo video amatoriale che, manco a dirlo, è stato subito caricato su internet, sollevando non poche polemiche. Scommetto che il proprietario, quando è arrivato, era tranquillo e beato, si legge in un commento. La colpa è di chi fa i controlli, scrive un altro utente Facebook. E ancora, dove sono i vigili? Queste cose avvengono soltanto a Catania. Domande queste alle quali, per il momento, non riusciamo a dare una risposta. Il video, infatti, dura soltanto pochi secondi.